Roast beef con mix grill. Qua abbiamo il roast beef già affettato, lo andiamo a posizionare nel piatto. Andiamo a completare con il mix grill, ultimiamo con un po' di scaglia di grana e un po' di pesto di senape diluito con un goccio d'olio. E il piatto è pronto! Grazie!